ciao a tutti e bentornati come una volta su indie gameplay ita oggi un video speciale un video velocissimo per segnalarvi una cosa avete visto qualche giorno fa il video di half life elix che ho fatto gioco via gioco che purtroppo è in inglese e i ragazzi di virare italia insieme a altri gruppi stanno realizzando una traduzione e vorrei pubblicizzarvi e vi metterò anche sotto qui nel video il link appunto questo video qui che cosa fare vi spiegherà esattamente che cosa dovete fare per poter contribuire alla realizzazione di questa traduzione che poi comunque verrà distribuita e se volete mettervi in contatto anche con le persone appunto che che fanno il reclutamento come dice poi anche il video dovete andare su facebook e unirvi al gruppo di creatori di mondi si chiama si chiama così creatore di mondi chiedete l'accettazione entrate e in pratica avete i want you for half life elix in sintesi quello che ha richiesto è avere una perfetta perdonanza della lingua italiana prima di tutto poi di quella inglese conoscere bene le dinamiche personaggi dell'ambientazione di half life e avere tanta pazienza e tanto tempo libero questi sono i requisiti vi metto il link qua sotto in descrizione alla prossima ragazzi e ciao